Si vola di più e stando a quanto riferiscono i passeggeri si vola meglio. Promosso a pieni voti nell'anno 2015 l'aeroporto Umbro San Francesco d'Assisi che con il suo 30,9% di crescita rispetto al 2014 fa impallidire la crescita media nazionale che si attesta al 4,5%. Sono 274.027 in totali passeggeri transitate al San Francesco nel 2015, un dato che fa segnare un nuovo record dopo quello 2013, chiusosi con 215.552 unità. Oltre 58.000 persone in più hanno scelto di volare utilizzando lo scalo Umbro, merito questo, secondo il gestore Sase, di nuovi collegamenti attivati che hanno avuto un riscontro positivo sulle scelte dei passeggeri. In particolare le rotte per Roma-Fiumicino con Alitalia, Monaco di Baviera con Lufthansa, Brindisi con Ryanair e Tirana con Blue Express. Su Roma le 10 destinazioni in connessione più gettonate sono state Catania, Amsterdam, Cagliari, Tirana, Parigi, Bruxelles, Barcellona, Milano, Palermo e New York. A far registrare gli ottimi numeri 2015, alcune rotte che soprattutto ad agosto hanno fatto registrare riempimenti medi di oltre il 90%. Sono quelle da e per Perugia, attivate da Ryanair su Londra e Cagliari, molto gettonate dai viaggiatori. Ma proprio Cagliari nel 2016 non ci sarà. La compagnia irlandesa ha annunciato tagli da e per la Sardegna a causa del numero limitato di aeromobili. Sul Natale invece era stata scelta come meta su cui puntare quella di Barcellona con la compagnia Vueling dal 29 dicembre al 2 gennaio con circa un migliaio di biglietti messi in vendita per la rotta. Sul fronte gradimento negli ultimi report mensili ricevuti dalle compagnie che operano presso lo scalumbro, l'aeroporto di Perugia viene collocato tra i migliori d'Europa per efficienza e puntualità. Anche i sondaggi a campione annualmente effettuati tra i passeggeri tramite la compilazione di appositi questionari e pubblicati sulla carta dei servizi evidenziano per il 2015 un livello di soddisfazione del 96% per la percezione sulla cortesia e professionalità, del 92% sulla percezione del livello di pulizia, del 92% sulla percezione di efficienza degli impianti di climatizzazione, del 91% sul livello di comfort, del 95% per quanto riguarda la percezione sulla qualità del servizio ricevuto in aeroporto.